7 aprile 2012, seconda edizione di Festa Popolare per gli Arrestati, due considerazioni sulla giornata di oggi. Direi che è una giornata sicuramente riuscita, con partecipazione come sempre altissima e la seconda festa che facciamo qua a Bussolino in presa, quando c'è stato appunto l'ondata di arresti che ha avvolto il Movimento Nazaro. In particolare a Bussolino oggi vogliamo segnalare in caso la situazione di Giorgio, che tra gli arrestati è quello che forse partisce una situazione peggiore, in quanto l'isolamento da ormai due mesi, una situazione che sicuramente non c'è. Siamo qua sicuramente per prenderci addosso, è un momento per ripartire anche qui, per passare vicino a tutti gli arrestati, ma abbiamo detto più volte, l'ontale per liberare tutti, vuol dire che c'è la possibilità di portare ancora. Grazie mille, grazie mille. Grazie mille. Grazie mille. Ah! Con cielo, la democrazia dell'Irag è in serio pericolo! Contraventistori! Contraventaristi! Estremisti! Beggiosissimi terroristi! Concipiglio, forte audace, toccherò di portarla a pace. Ah! E dove facciamo portare la pace? Quando c'è la morte muovra! E pensa che mondo è mondo perché si fa una guerra? E certo, la guerra si fa per arrivare alla pausa. E sì, si è mai visto una guerra che si faccia per arrivare alla guerra. E se non si fa la guerra, per evitare la guerra viene la guerra. Per evitare la guerra ha bisogno di farla. E in tutti i casi, guerra. Tutto in più si può scegliere se fare la guerra che si vorrebbe evitare. O fare la guerra che serve ad evitare. Obama chiama alla Siria di non volere la guerra. E' vero, vero. Nessuno muore la guerra, tantomeno negli Stati Uniti dell'America. Bisognerebbe essere fatti per volere la guerra. E' incierto! E di solito si vogliono altre cose. Territori, bocchi al mare, dominio dei mercati mondiali, pari petrolio per usi domestici, Ciccini di Casper stare al caltuccio di inverno. Tutte cose che non si possono avere senza la pace. Ma quando è che viene la pace? No, non è quella! Non si è mai visto una pace che venga durante la pace. E no, è proprio la guerra che viene durante la pace. E' che viene la guerra, ma tutto quel che può succedere di novità è la pace. E' mentre non si sa quello che può succedere quando si è in pace. La pace è come la salute. La città è una stata di cose in cui la cosa più preoccupante è amarsi. E' se sei sanno di fronte. E' se sei tornato al limite guarisci. La pace è come il lavoro. Che ti preoccupi diventa disoccupare. E non la vorrei che ti licenzio. Grazie a tutti. 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 Buon fine settimana a tutti quanti. Luca da un letto di ospedale. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.